Il turismo rurale funziona perché recupera il contatto con la natura e perché offre una gastronomia di alto livello. Parola di chi di turismo e di enogastronomia si occupa da 20 anni. Tirso Media che ha presentato la sesta edizione della guida agli agriturismi di Puglia. 433 strutture ricettive e 152 masserie didattiche selezionate in base all'esperienza e alle segnalazioni dei clienti. Ci arrivano segnalazioni sui siti, su Facebook e quindi abbiamo una risposta proprio dell'utenza. Siamo quasi dei trip advisor del territorio. Molte sono masserie didattiche perché c'è questa voglia di ruralità, di imparare a conoscere quello che offre la terra. La guida è articolata in quattro sezioni, Daunia, Altamurgia, Bassa Murgia e Valle d'Itria, Salento. 25 strutture che si sono distinte per qualità e originalità dell'accoglienza sono state premiate. C'è una presenza massiccia della Murgia appunto. E infatti è quello dove si mangia meglio no? In Puglia onestamente. Eppure non è conosciutissima dai turisti. Sì, è vero. Perciò va spinta, va incoraggiata.